Nel Settecento in Inghilterra si verificò un forte aumento demografico che fece aumentare la domanda dei beni e stimolò l'introduzione di nuove tecniche agricole. Venne introdotta la rotazione quadriennale che rendeva i terreni più produttivi e fu approvata una legge che permettesse ai grandi proprietari di recintare i terreni, imponendo il modello della grande azienda agricola. Anche la domanda di prodotti tessili era alta, quindi furono introdotte innovazioni nella manifattura tessile, come la spoletta volante, il filatoio meccanico e il telaio meccanico, che resero l'industria tessile inglese la più produttiva al mondo. Tra le innovazioni di questo periodo la più importante fu sicuramente la macchina a vapore, che poteva essere sfruttata in diversi settori produttivi, in particolare quello siderurgico e nei trasporti. Queste innovazioni consentirono di spostare tutte le macchine in un unico luogo di produzione, la fabbrica, che cambiò i sistemi produttivi con la divisione del lavoro e la produzione in serie. La rivoluzione industriale ebbe anche conseguenze sociali. Gli operai, che contavano anche donne e bambini, lavoravano in condizioni molto dure, che spinsero a forme di lotta collettive. Nasceva la cosiddetta questione sociale. Cambiò notevolmente anche l'aspetto delle città, dove sorsero interi quartieri operai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.